Salve a tutti, buonasera, innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità di essere qui oggi. Io sono Marco Rendina, sono qui a rappresentare Cinecittà Luce, che adesso si chiamerà Istituto Luce Cinecittà, un altro cambio di nome nei tanti che sono avvenuti nel tempo. Prima mi è stato chiesto di presentarmi molto brevemente, io ho una formazione assolutamente e tristemente scientifica, fino all'anno scorso avevo una posizione di ricercatore in un consorzio interuniversitario romano con le tre università di Roma, e la mia formazione quindi viene dalla matematica applicata, mi occupavo ormai posso dire di videoanalysis e quindi apparentemente sì c'è un'attinenza ma non proprio con le cose che sto presentando adesso e soprattutto con le cose che mi consentono di mantenere una famiglia in questi ultimi anni. A parte questo, io oggi vi parlerò di alcune iniziative che ho seguito personalmente, la prima è quella degli archivi dell'Istituto Luce, che sono online ormai dal 1996, che sono online in streaming dal 1998, siamo stati il primo archivio, la prima cineteca, il primo archivo filmico al mondo ad andare in linea, forse siamo stati troppo all'avanguardia, tant'è che ora siamo indietro rispetto a quello, come spesso accade, chi incomincia prima poi tende a rimanere indietro. Parlerò quindi degli archivi dell'Istituto Luce, una breve descrizione e poi andremo a vedere anche il portale online, per capire un attimo come questo portale possa essere usato anche in un contesto scolastico. Poi parlerò, non so ancora se manterrò quest'ordine in verità, ci stavo ripensando, forse è meglio parlare prima di Euscreen, questo progetto di cui prima accennavano, accennavano, è un progetto che vi descriverò dopo, quindi non dico niente adesso. Anche in questo progetto qui farò vedere il portale che attualmente è in linea, è ancora in fase di sviluppo, ma per la fine di settembre dovrebbe essere ultimato. Immagino che molti di voi abbiate ricevuto anche una richiesta di registrarvi a questo portale, in modo che poi domani, forse anche oggi, oggi pomeriggio Mati farà poi delle esercitazioni con voi. E poi parlerò anche di un'altra iniziativa molto importante, europea, che si chiama Europeana, di cui probabilmente avete già sentito parlare, almeno spero. Anche qui, in una breve descrizione, vedremo il portale online, questo è un portale non specificatamente audiovisivo, ma più in generale è un portale che dà accesso a beni culturali europei. Europeana ha anche realizzato alcuni video interessanti sul portale stesso e sul link d'Open Data, un accenno che farei volentieri perché ha anche questa una piccola attinenza, almeno per quanto riguarda i versanti metadati, più che dati. L'Istituto Luce è stato fondato nel 1924 con l'obiettivo di usare il cinema per diffondere la cultura e la conoscenza. Ovviamente questa immagine spaventa un pochino, in effetti è stato presto poi reso, diciamo così, statalizzato nel 1925 ed è stato presto poi usato quasi esclusivamente a fini propagandistici dal regime di Mussolini e dal 1927 al 1944 ha avuto il monopolio della produzione di cinegiornali e documentari in Italia. Passò una legge in quegli anni che obbliava tutti i cinema a mandare in onda, in proiezione, prima di qualsiasi altra pellicola, i cinegiornali luce, diciamo così. Dopo la guerra ovviamente si è fortemente ridimensionato, ha continuato a produrre con produzioni come la Settimana Income, anche questi andavano, erano cinegiornali che andavano in onda nei cinema e si è continuato a produrre documentari e poi l'Istituto Luce così come si configura oggi ha continuato anche ad acquisire altre produzioni, altre testate di cinegiornali, anche straniere e a cofinanziare produzioni di documentari e a occuparsi anche di distribuzione cinematografica. Questa è una delle tante foto che abbiamo nel nostro archivio. Oggi si potrebbe dire meglio la televisione è l'arma più forte, la cinematografia ha un po' perso questo appeal, però ecco, il concetto è che sin dalla nascita le immagini hanno avuto un potere informativo, per essere neutrali, abbastanza forte. La grossa differenza oggi è che mentre un tempo questo potere ovviamente era a disposizione solo di chi poteva produrre il cinema in questo caso o la televisione, oggi in qualche modo si sta democratizzando. Abbiamo visto in una scuola superiore qui a Torino si sono fatte cose incredibili e si è avuto la possibilità di inviare messaggi forti, anche senza essere un dittatore o un ticun televisivo. Luce, da dove deriva il nome? Non so se ve lo siete mai chiesti. Luce è l'acronimo dell'Unione Cinematografica Educativa. Quindi la vocazione educativa è proprio nel nome dell'istituzione. Ha cambiato poi i nomi in Istituto Nazionale Luce, Istituto Luce e fino agli ultimi sviluppi Cinecittà Luce, Istituto Luce e Cinecittà. Cosa contiene questo archivio? Contiene più di 12.000 cinegiornali, 5.000 documentari e complessivamente più di un milione di metri di immagini di repertorio, di pellicola. Quindi noi conserviamo essenzialmente pellicola. Tra l'altro, siccome si parla di pellicola che vanno dal 24 fino agli anni 80, per una buona parte, una buona fetta, si tratta anche di pellicola nitrato, quindi infiammabili. E' per questo che noi ci siamo subito preoccupati di pensare alla digitalizzazione e poi alla messa online. Oltre a questo abbiamo anche 5 milioni di foto, un archivio abbastanza grosso che fino a qualche anno fa era venduto da Alinari. Cioè Alinari faceva da broker per le foto dell'archivio. Quindi molte delle foto che vedete come Alinari in verità sono dell'istituto luce. Copriamo quindi un arco temporale che va dagli albori del cinema attraverso tutto il XX secolo. Molto dato ancora è una fase di propaganda, in verità poi appunto al di là del XX secolo non andiamo, in verità. Tutto questo, come accennavo prima, è online sul sito archivio.com. Noi nel 98 abbiamo iniziato il programma di digitalizzazione di circa 4.000 ore di video di archivio che abbiamo, trasferendo da film a nastro, a Betacam, e da Betacam poi in digitale. Avendo iniziato molto presto tutto ciò, attualmente la qualità che vedete sul sito è abbastanza povera, perché è una qualità che noi usavamo nel 98 appunto. Nel 98 avevamo tre tipi di qualità, una qualità 56k per i modem che all'epoca erano, come dire, i più diffusi, 100 kilobit al secondo e la qualità che all'epoca era il top, i 300 kilobit al secondo, che è attualmente quella che viene mostrata sul portale oggi, ma che è confrontata alle qualità che abbiamo visto anche prima da YouTube che manda in streaming video in HD, è assolutamente inadeguata. Vorremmo ricominciare con un processo di digitalizzazione, ma ovviamente i costi sono abbastanza alti, per cui è qualcosa che è ancora un po' al di là da venire. Bene, questo è il nostro portale. Come accennavo prima, ovviamente la grafica e il restyling non è quello del 98, evidentemente, almeno su quello ci siamo potuti permettere il lusso di rimetterci mano, ma tutto quello che c'è dietro, sia la parte di metadati, quindi le 4.000 ore, le 350.000 foto, quindi 12.000 giornali, quindi 5.000 documentari, sono stati tutti catalogati in maniera manuale, evidentemente, da un gruppo di 10 catalogatori che ha lavorato per un paio d'anni e che ha catalogato le immagini anche quasi sequenza per sequenza, quindi è un archivio abbastanza ben catalogato e classificato. Il punto debole, che purtroppo è, per voi non lo è evidentemente, però per altri sì, è che è solo in italiano, avendo fatto un grosso investimento nella parte di metadattazione, adesso tradurla in maniera manuale, diciamo così, a costi altissimi, parliamo di 200.000 euro, solo per la traduzione in lingua inglese, e quindi uno sforzo che ancora, adesso stiamo sperimentando tecniche un pochino più avanzate di traduzione automatica o di traduzione delle query, ma ancora insomma non abbiamo deciso nulla su questo. Allora, questo archivio è aperto a chiunque e quindi sebbene l'Istituto Luce sia un archivio di produzione, cioè vende footage, tra i nostri principali clienti c'è la RAI per esempio, quindi la maggior parte dei documentari che vedete della storia in seconda serata eccetera, sono fondamentalmente fatti con il repertorio luce che la RAI ci paga a caro prezzo e la RAI come altri broadcaster. Quindi, come dire, dietro abbiamo un business model che è assolutamente commerciale, nonostante si sia, diciamo così, si sia una public company, diciamo così, quindi in qualche modo siamo del ministero attualmente della cultura, dove abbiamo, come dire, un archivio che viene sfruttato commercialmente. Questo ovviamente non collide assolutamente con l'idea di mettere online l'intero patrimonio, nel senso che avere online, soprattutto purtroppo con la qualità con cui abbiamo messo adesso, è assolutamente, anzi, per noi è un modo di pubblicizzare il nostro materiale. Quindi, in qualche modo, questo è anche una cosa che ci tengo a sottolineare perché molti archivi commerciali non danno alcun tipo di accesso al proprio materiale perché ritengono in questo modo, come dire, si bruciano una porzione di mercato. Ovviamente, a mio avviso, è un'enorme stupidaggine, nel senso che i clienti su cui noi possiamo contare in termini di budget sono clienti di produzione cinematografiche e broadcaster che hanno bisogno di materiali in una certa qualità, senza logo, consegnato in una certa maniera, a limite anche editato e quindi, in qualche modo, non se ne fa nulla di un accesso alla YouTube, diciamo così, o comunque online come questo qui. Per cui, anzi, il condividerlo con un'utenza allargata non fa altro che far conoscere il nostro materiale e quindi, in qualche modo, sviluppare quella equazione in cui io credo fermamente che è use equal to value, cioè l'utilizzo da valore. Se teniamo le cose chiuse nei nostri archivi, essenzialmente, non valgono niente, almeno dal mio punto di vista. Bene, io non so se quanti di voi avevano già avuto accesso a questo archivio. Potete alzare la mano a chi era già stato su questo archivio? Prima che inviasse il link ieri? Ok. Ecco, ora non so come l'abbiate trovato, credo sia relativamente semplice. Noi qui abbiamo essenzialmente tre fonti informativi grosse. L'archivio fotografico, l'archivio cinematografico e gli archivi partners, che sono archivi di istituzioni come la Cineteca, il Friuli, l'archivio divisivo del movimento operario democratico, l'archivio Quilici, l'archivio Albania, che in qualche modo non erano in grado di sostenere una struttura per la fruizione online del loro materiale. e allora abbiamo fatto un accordo abbastanza semplice, facciamo noi il lavoro, però date contenuti sul nostro portale. Questo consente, aumenta di nuovo la nostra visibilità e da loro, quindi è una situazione in cui vincono tutti, essenzialmente, una win-win situation. Quindi è possibile qui fare ricerche mirate solo su uno di questi archivi, o su tutti e due, su tutti e tre, e cercare qualcosa. Ora, poi magari mi dite anche voi qualcosa che vi interessa, però questa è una cosa che mi è sempre piaciuta perché ci sono delle, ho scritto Gandhi, non so se si legge, e ci sono qui molte, quindi posso fare sia ricerche avanzate, ora non mi dilungherò su questi dettagli perché francamente oramai come funzionano queste banche dati è una cosa abbastanza stessa, standard, c'è una ricerca free text testuale, una avanzata con una serie di campi e non c'è molto altro da dire, mi focalizzerei più sugli esiti. Ho fatto la ricerca Gandhi e vedo che ho trovato 28 cinegiornali e 3 documentari che contengono nella parte di metadati la parola Gandhi, quindi si può presupporre che anche in termini di immagini in qualche modo Gandhi in un modo o nell'altro compaia. Io qui ho il mio esito di risultati che ovviamente è paginato ho delle immagini di un cinegiornale luce uno dei primi del 31 con la visita del Matt Gandhi a Roma. Io ho delle parole chiave, noi abbiamo usato un tesaurus interno per classificare tutto l'archivio e quindi vedo ho delle keyword come celebrazioni civili nomi come Gandhi appunto luoghi Ricci Renato è sicuramente l'operatore che ha girato il cinegiornale e poi ho anche come accennavo prima la descrizione delle sequenze quindi io da qui posso vedere diciamo così di cosa essenzialmente parla il filmato senza dovermelo vedere è chiaro che nel caso dei cinegiornali questo è un ausilio relativo perché quando si tratta di cinegiornali il servizio dura in genere due minuti un minuto e mezzo per cui vederselo tutto o leggere venti dighi di testo è super giù la stessa cosa però è chiaro che in un caso di un documentario questo aiuta abbastanza diciamo così purtroppo all'epoca non c'era ancora la tecnologia per poter sincronizzare la descrizione con la timeline al di là del come dire del bla 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 c'è anche poi appunto il video che ripeto è accessibile per per tutti in linea per esempio questo materiale è stato spesso usato nelle scuole in particolare siccome Gandhi fece visita alla Carbatella che è un quartiere di Roma è stato fatto un evento lì in cui ai bambini della scuola che andò a visitare è stato fatto vedere proprio il video in cui il Mahatma Gandhi che avevano solo visto nei film al cinema perché le immagini di il repertorio di Gandhi non è che ne passino spesso in televisione e lo hanno visto nella loro scuola qui credo che sia proprio al sì questo è quando va a visitare la Garbatella il quartiere della della Garbatella di come dire di chicche di questo tipo nell'archivio se ne trovano parecchie evidentemente ora il tempo purtroppo è anche tiranno per cui purtroppo non ve lo posso far vedere tutto però ecco ora non so non ho avuto il tempo in verità di preparare molto di questa presentazione lo confesso avrei voluto fare molto meglio ma purtroppo è un periodaccio questo perché c'era la scadenza di una di una colpa progetti europei eravamo tutti impegnatissimi per cui vi chiedo scusa ma non è vado un po' attentone adesso ho inserito adesso per esempio Torino e no ma volevo capire per qualche foto quindi probabilmente ok il fotografico ce l'ho ok benissimo quindi ho di nuovo fatto la mia ricerca posso consultare risultati sia divisi per tipologia quindi vedere i scenegiori che parlano di Torino i documentari le immagini di repertorio ma anche le foto quindi io ho sia ho diversi fondi qui il fondo vede è uno dei fondi un po' più recenti e infatti abbiamo foto immagini degli anni 50 ci sono anche immagini di sport insomma immagini varie io ero tentato di farvi vedere queste immagini nel contro Roma Torino ma non so come è finito quindi preferisco non vitalizzarlo non vorrei avere brutte sorprese visto che sono della Roma il Torino era abbastanza forte in quegli anni quindi immagino che come è andato a finire lo immagino qui è stata fatta per le foto purtroppo è stata fatta una scelta che mi ha visto sempre abbastanza perplesso quella di inserire questo watermarking abbastanza fastidioso per evitare il riuso improprio la trovo una cosa abbastanza inutile non ho avuto molti strumenti nel convincere il nostro management a non farlo perché purtroppo nel periodo in cui abbiamo messo in linea le foto avevamo delle cause legali pendenti con diverse società di produzione e faccio anche i nomi perché abbiamo vinto quella causa tipo Obium Works che semplicemente usavano materiale del Cinecittà Luce con logo e tutto quanto in produzione che vendevano in edicola senza pagare alcun diritto niente di niente quindi la pirateria allo stato puro proprio e quindi vista l'aria ovviamente non se la sono sentita ha detto a loro di lasciare diciamo così foto che potessero essere in qualche modo riutilizzabili visto che sembrava che riutilizzassero proprio qualsiasi cosa le immagini che avevano rubato erano prese da VHS addirittura immaginiamo che qualità quindi anche per le foto potete vedere che ci sono dei metadati essenziali in cui c'è anche una descrizione del soggetto che viene fotografato ovviamente oltre a un browsing diciamo così puntuale di questo tipo attraverso una ricerca si può anche fare un browsing per fondi o per percorsi tematici ce ne sono alcuni qui sulle regioni d'Italia che vanno in anche abbiamo fatto iniziative di questo tipo anche con con le regioni stesse per costruire delle sorte di mini portali tematici in cui usare il materiale che proveniva dal nostro archivio purtroppo quello che non abbiamo ancora fatto che vi farò vedere adesso invece che abbiamo fatto per Eoscreen e sarà quello su cui vi eserciterete voi anche domani è dare strumenti agli utenti per riusare online il materiale che si trova nel nostro archivio questo è qualcosa che non abbiamo ancora fatto ci interesserebbe molto farlo e questo potrebbe essere un modo per coinvolgere a pieno titolo per esempio le classi le scuole perché immaginate bene che per lo studio della storia della geografia dell'educazione civica il materiale che nel nostro archivio potrebbe essere di fondamentale interesse per una scuola primaria per una scuola superiore e tenendo il materiale in questo modo non è che si come dire consente un riutilizzo estremamente agevole nel senso che l'insegnante dovrebbe accedere al portale può inserire i documenti in un raccoglitore però più di tanto non può fare le cose che stiamo sperimentando che Matti domani vi mostrerà ancora meglio è come invece usare strumenti di facile uso evidentemente quindi che non implichino una conoscenza informatica avanzata quindi usare strumenti che consentano di inserire in un contesto tipo esibizione virtuale virtual exhibition il materiale che si trova sia fotografico che video che testuale all'interno di un portale o in generale del web quindi inserire contributi da YouTube da Archivostorico Luce europeana in maniera da comporre una sorta di lezione online consultabile e veramente fruibile solo in questo modo probabilmente si fa il salto quantico fino allora si hanno tante fonti interessanti però francamente non è tanto diverso dall'entrare in classe col carrellino e il videoregistratore e il televisore si porta un pc e sul pregio è la stessa cosa insomma non è